Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro telegiornale con un fatto di Cronac che riguarda ovviamente un'operazione della Guardia di Finanza di Verona durante la stagione estiva i militari del Comando Provinciale di Verona in collaborazione con la locale Polizia Municipale hanno avviato nel capoluogo Scaligero meta turistica tra le più richieste del panorama nazionale e un'articolata di analisi e controllo nei confronti di strutture ricettive complementari a tutela dei consumatori e delle imprese che rispettano le regole. Ben 65 sono state le strutture e i soggetti che svolgevano l'attività pressoché in forma abusiva. Analoghi controlli avviati già l'anno scorso e oggi conclusi hanno consentito di recuperare una base impunibile sottratta a tassazione all'erario per oltre 500 mila euro, mentre sono in corso gli approfondimenti sopra citati per le attività di controllo aperte durante il periodo estivo. E 210 mila euro per 600 nuovi alberi in città a Padova, 190 alberature stradali e 410 nuove piante nelle aree a verde pubblico. E' quanto è stato stanziato proprio oggi in giunta su proposta dell'assessore al pronto intervento cittadino Alain Luciani per l'incremento e il reintegro del patrimonio arboreo dei parchi, delle aree a verde pubblico, dei giardini, delle scuole, delle aree attrezzate con l'effettuazione di nuovi impianti di alberi lungo le strade. Si tratta dell'approvazione di due progetti di riqualificazione del verde pubblico cittadino, così precisa l'assessore, il primo di 110 mila euro che è dedicato alla conservazione e al riassetto del patrimonio arboreo che vogliamo mantenere intatto. Il regolamento sull'attività dei pubblici esercizi non ammette deroghe e quindi le sanzioni prevedono di essere applicate in qualunque caso e quanto dichiara Leonora Mosco, assessore al commercio del comune di Padova, infatti il caffè Pedrocchi è uno dei simboli della nostra città e l'intera comunità padovana beneficia del suo riconosciuto prestigio storico monumentale. Però le multe totalizzate per una serie di infrazioni ha visto la chiusura anticipata già alle ore 22 e la sospensione dell'utilizzo di sorgenti sonore come previste dal regolamento per un tempo di 15 giorni che decoreranno dal 6 novembre 2013 e quindi sarà garantita quella che è la serata di beneficenza prevista per questa sera. Un anziano alla guida di uno scuterone è morto stamattina alle 12.30 a seguito di un incidente accaduto purtroppo in via Gattamelata davanti allo Iov di Padova, la vittima si chiamava Cesare Tiveron, 72enne, residente in città in via Manara, in sella ad una Yamaha 125 e finito contro una Fiat Punto della regione del Veneto per ragioni al vaglio della polizia locale intervenuta per i rilievi di rito. Soccorso in gravi condizioni dai sanitari del SUEM 118, il motociclista è deceduto poco dopo all'ospedale in seguito ai gravi traumi riportati nell'impatto. E parliamo ancora di cronaca nera, sarà l'ora della verità per il giallo della scomparsa e della morte della povera Isabella Noventa? E anche per Freddi e Deborah Sorgato, i fratelli diabolici che hanno pianificato il delitto dell'ex fidanzata di lui, secondo la pubblica accusa, o i fratelli che sono stati incastrati dalla confessione dell'amica di un tempo, convinta di salvare se stessa dall'accusa di omicidio volontario secondo le rispettive difese? E' ormai deciso. Entro un mese la tabaccaia di Campo Nogara, Manuela Cacco, verrà interrogata nell'ambito di un incidente approvatorio. Ma di che cosa si tratta? E' un meccanismo di anticipazione della prova. Nel nostro ordinamento giuridico la prova deve formarsi nel corso del processo. Tuttavia, durante un'indagine, un testimone o un indagato può raccontare agli inquirenti dei fatti importanti che per trasformarsi poi in prova devono essere confermati nel corso del giudizio. Per evitare che quel soggetto cambi poi versione, non si presenti in aula o si avvalga della facoltà di non rispondere, si può cristallizzare il suo racconto ricorrendo ad un interrogatorio nelle forme dell'incidente probatorio. La richiesta è stata notificata ora alle parti e inoltrata dall'ufficio del GIP Brunello che dovrà decidere se raccoglierla o meno, ma pare abbastanza scontato, e fissare quindi la data del processo entro dieci giorni. Sesso all'ospedale, anzi negli spogliatoi del reparto malattie infettive di Padova, sesso tutt'altro che consenziente, almeno stando alla denuncia di una infermiera un tempo in servizio alla divisione dell'azienda ospedaliera, infermiera che ha mandato a processo il collega Claudio Pelizza, 65enne di Casalserugo. Quest'ultimo è accusato di aver aggredito sessualmente la giovane, tutt'altro che disponibile a quell'approccio inaspettato. Ora la prima udienza del processo davanti al Tribunale collegiale di Padova, dove l'uomo è difeso dal professor Giovanni Caruso. Secondo la pubblica accusa, l'aggressione sarebbe avvenuta il 26 luglio 2014. La donna firmataria della denuncia aveva raccontato che stava cambiandosi nello spogliatoio del reparto dopo aver concluso il suo turno con orario straordinario. Eren Slip e Reggiseno intenta a infilarsi i pantaloni. D'improvviso alle sue spalle sarebbe piombato il collega che l'aveva afferrata tentando di baciarla sulla bocca e sul collo. E' un episodio ancora tutto da chiarire e su cui si cercheranno di far luce i carabinieri intervenuti ieri sera intorno a mezzanotte in via Benedetto Marcello a Padova, dove poco prima era stata soccorsa dai sanitari del suo M118 una studentessa universitaria che si era buttata, pare, da una finestra del piano rialzato dell'appartamento in cui vive. La giovane, una 21enne originaria di Napoli, cosciente all'arrivo dei sanitari e ricoverata all'ospedale con prognosi riservata, potrebbe aver tentato il suicidio. Nell'appartamento in cui vive la ragazza, i militari dell'arma hanno trovato anche il fidanzato e altri compagni di studi che hanno riferito come prima dell'episodio non fosse avvenuto nulla di particolare e che lei non avesse detto nulla che potesse far presagire ciò che poi era seguito. Da domani a venerdì per due notti consecutive con orario 22.06 del mattino sarà chiuso il bivio della A4 Padova-Venezia per lavori di pavimentazione. Dalle 22 di domani sera fino alle 6 di giovedì è prevista la chiusura dello svincolo che dalla A4 con provenienza da Venezia immette sulla carreggiata sud della A13 verso Bologna. dalle 22 di giovedì alle ore 6 di venerdì chiuso l'arracciamento tra la A4 per chi proviene sia da Venezia che da Milano e Padova-Zona Industriale in direzione Bologna. Di conseguenza l'uscita di Padova-Zona Industriale non sarà raggiungibile per chi proviene dalla A4. In alternativa a chi proviene dalla A4 ed è diretto a Bologna si consiglia di uscire a Padova-Est e seguire le indicazioni verso Ponte San Nicolò attraverso la statale 516 e rientrare poi sulla A13 alla stazione di Padova-Zona Industriale. Bene, chiudiamo la nostra pagina di informazione, vi diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni, la linea ora torna ai colleghi. Grazie.